La VL riemerge dalla sosta con la prima di dieci partite in cui giocarsi il proprio destino. Si comincia con il meno accomodante degli avversari perché nella vitrifrigo arena, pronta ad intitolare la curva all'indimenticato Marco Piccoli, arriva la Germani-Brescia prima della classe. Sappiamo che per noi tutte le partite sono difficili al di fuori di giocare contro Brescia. Noi dobbiamo dimostrare di esprimere il massimo delle nostre possibilità. Poi voglio dire, ci renderemo conto che poi non possiamo battere Brescia, lo faremo alla fine della partita. Però voglio dire, noi dobbiamo avere questa espressione di giocare il massimo e di finire la partita, di dire abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Sicuramente nelle ultime due partite qualcosa di meglio abbiamo fatto. Abbiamo da farci perdonare sicuramente l'atteggiamento che abbiamo avuto in casa contro Brindisi. E perciò spero che ci sia veramente un cambio di atteggiamento al di là del valore dell'altra squadra. Dieci partite in cui la WL si giocherà anche l'ultima carta, quella di Justin Freitforeman. Giocatore che sicuramente ha facilità di fare canestro, speriamo che ci aiuti un pochettino a innescare un po' i nostri giocatori e che si metta un pochettino rapido così anche un po' in difesa. Sicuramente non è la sua qualità migliore, però penso che quando uno ha delle qualità fisiche per farlo, potrebbe farlo. E lui qualità fisiche per difendere ce le ha. Speriamo che le metta dentro perché abbiamo bisogno che anche lui inizi a dare dei messaggi in difesa sotto questo aspetto.